ciao a tutti quello che vado a presentarvi è un semplice plasma twitter ovviamente di qualità pessima però divertente da realizzare perché si utilizzano componenti di facile reperibilità qui vediamo un tda un amplificatore in classe d il quale è stato modificato la resistenza dell'oscillatore in maniera tale da poter avere un range maggiore e poterlo sintonizzare la frequenza del tesla coil questa è la resistenza metterò di seguito anche lo schema elettrico comunque va assolutamente a modificare la resistenza sul piedino 24 che in questo caso una r12 da 39k invece va messo un trimmerino da 47k con in serie una resistenza 2,2 kg l'uscita come vedete devono essere rimossi tutti gli induttori e prelevare una delle quattro uscite un semplice snubber composto dagli uf 4007 dei condensatori abbiamo l'uscita e andiamo sul nostro primario avvolto ovviamente un esperimento giusto per un per passare un pomeriggio l'uscita l'alimentazione in questo caso viene prelevata dall'alimentatore 31 volt raggiungono il nostro il nostro tda l'uscita ma fino il primario elettoroide l'avvolgimento del tesla coil e abbiamo il piccolo arco arco vediamo se si spengo la luce così si vede meglio eccolo qua il nostro arco che adesso non è modulato cioè il volume è a zero è divertente ovviamente e cosa fa a questo punto il tda il tda è in grado di di modulare il pvm in uscita ho preso come sorgente un lettore mp3 un piccolo filtro per far passare solo le frequenze alte ma in realtà è un traccio e adesso aumentando il volume abbiamo una modulazione del dell'arco vabbè adesso andrebbe è un gioco da pochi euro e per passare un pomeriggio a specifiche abbiamo all'incirca 1200 spire su a volte su un tubo dello scarico quello arancione non utilizzate altri tipi perché non vanno bene o meglio bisogna fare dei semplici esperimenti basta prendere un pezzettino di tubo mettere all'interno delle forne a microonde se riscalda non va bene quindi prendete uno che non riscalda all'interno del forno a microonde avvolgete in circa 1200 spire primario 5 spire vanno a finire un capo a finire all'uscita dello snubber che sarebbe questo schema qua uf 4007 uf 4007 4,7 kg sempre uf 4007 qui non avevo i 4007 questo schema che ho preso da nuova elettronica su uno snubber che usava su un suo progetto ho messo i 10 nano farad uscita un nano farad il centrale l'altra uscita del del primario l'ho presa attraverso questi due condensatori andrebbero meglio i due due condensatori da un millifarad al poliestere non avendolo ho sfruttato quello che che avevo in casa eccolo qua semplice semplice ovviamente se abbasso se levo il volume diventa un semplice tesla coil da un semplice tesla coil può essere aumentata ulteriormente la potenza ma di poco perché abbiamo raggiunto abbiamo in uscita la tensione l'alimentiamo a 31 se non sbaglio il tda può essere alimentato fino a 35 ovviamente ci sarà qualche margine ma preferisco non dannaggiarlo un saluto a tutti